Sono Giacomo Sabatini, da Scusami le Spalle, a bordo del mio Mini Transat 650, con il quale parteciperò tra un mese alla Mini Barcellona. Una regata in solitario di 300 miglia, con partenza da Barcellona, giro di Minorca e rientro a Barcellona. Questa regata sarà l'ultima regata che mi permetterà di qualificarmi alla Mini Transat per quest'anno. La Mini Transat è una regata a numero chiuso, che parte dalla Rochelle in Francia e arriva a Salvador di Bahia, in Brasile, a bordo di barche come queste, di 6 metri e mezzo, in solitario. La regata è a numero chiuso, potranno parteciparvi, sono i migliori 80 skipper al mondo, e sarà in solitario. Quindi ecco, sto partecipando alle regate di qualificazione, quest'anno ho partecipato alle tre regate del Campionato Italiano, più ho effettuato il giro di qualifica alla Mini Transat. Mi sei arrivato secondo, no? C'è un giro di mille miglia, con partenza da Genova, arrivo a Porto San Giorgio senza tempo, senza limiti di tempo, e non in regata quindi, ma obbligatorio per concludere la qualificazione alla regata transatlantica.